ti avvengono? ma cosa? ma il solitario insomma lo abbiamo appena messo a tre ascolti un che allora vabbè hai chiesto a te la dire la metti in fronte la metti in fronte la metti in fronte e questa è duramente mi metterò lei è chiesto a te la dire e vabbè finito buon pieno di notte vabbè 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 bravo grazie io non ho una caratteristica questa ma se c'è tre mangiare è già finita questa sera ma ho avuto tutti in sostanza e me invece ho avuto tutti in del piav no vabbè la metti in piedi non fai non fai la metti in piedi la metti in piedi ecco vabbè vabbè compiare di notte avete bisogno di sparmene eh no vabbè 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 vabbè